Pronto? C'è la clausola recessoria, allora? E quindi è scritto che io sono libero di petto cannelli di cotti a Higuaini, chi vuole dire? Ma come che vuol dire? Che tu sarai libero per la clausola recessoria se spezzerai cannelli di cotti a Higuaini, anzi se ci spezza a Torino avrai pure il bonus, figurati. Chiaro? Dì. Non dico chiaro? Ehm, più o meno. Bene, calidù? Io calidù. No, no, calidù o calo io? Ehm, calidù. Allora calo io, ciao.